Un seminario su un tema affrontato ma poco discusso diciamo, il rispetto del linguaggio di genere è un falso problema? Assolutamente no, non è un falso problema, è un problema reale. Certo non è il maggiore dei problemi che attraversano la nostra società e la nostra cultura, ma il rispetto del linguaggio di genere è fondamentale oggi nella correttezza della comunicazione e anche è un compito del Comitato Unico di Garanzia che io presiedo, quello di cercare di fare il possibile per evidenziare le discriminazioni che avvengono in tutti i settori del vivere sociale e quindi anche nel linguaggio. Ecco perché abbiamo organizzato oggi questo seminario. Non è un falso problema e cercheremo di dimostrarlo.